Com'è possibile che riesca a vederti? Sei vivo? Oppure sono morto anche io? O molto più probabilmente sono già completamente impazzito No, non ancora Voglio solo tornare a casa Voglio tornare sulla tua tomba e scoprire cosa è successo Devo sapere per poter far capire che non sono stato io Non posso ancora continuare a girare con questo peso Non posso veramente E fino alla fine Non mi arrenderò Ma... Ma... Che posto è questo? Come ci sono arrivato? Non capisco Proverò a seguire questa scala Porterà da qualche parte È un posto veramente strano Benvenuto Porterà da qualche parte N cuore Parto 5 Grazie per la visione!